Che devo fare adesso? Devo fare atto di sottomissione? Il re lo farà? Deve essere deposto? Il re si rassegnerà? Deve perdere il nome di re? In nome di Dio vada anche quello. Una tomba piccina, piccina, una tomba oscura, dove mi farò seppellire in una fossa scavata sotto una delle vie maestre del mio regno. Una via battuta da tutti, dove i piedi dei sudditi possano ad ogni ora calpestare la testa del loro sovrano. Già che, ora che son vivo, calpestano il mio cuore. Omerle, tu piangi, fuggino del tenero cuore. Faremo il cattivo tempo con le nostre lacrime disprezzate. I nostri sospiri e le nostre lacrime faranno coricare il grano estivo e porteranno la carestia in questa terra in rivolta. Si baloccheremo con i nostri dolori e faremo una bella gara a chi versa più lacrime per farle cadere tutta in un posto e così scavarci due tombe per esserci sepolti. Qui già sono due congiunti che si scavarono la tomba con le lacrime dei loro occhi. Si, un tal bel pianto non farebbe colpo. Bene, bene, ma colgo che parlo a vanvera e tu ridi di me. Potentissimo principe, mio signore Notberlanda, che cosa dice? Re Bolingbroke verrà a sua maestà a dare a Riccardo licenza di vivere finché Riccardo non morrà? Se gli fate un inchino a voi, Bolingbroke dirà di sì.